La nostra protesta contro la corruzione dei vigili urbani nel Comune di Roma continua e sceglie come location il Campidoglio. Il Campidoglio è il centro proprio del Comune di Roma, nella giunta Alemanno che da un anno e mezzo sta rispondendo negativamente a questa nostra proposta di dotazione intermunicipale ogni tre anni dei vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici comunali per garantire trasparenza e imparzialità nel rispettamento delle funzioni, come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Abbiamo incontrato il vice comandante Diego Porta, dei vigili urbani, che a nome del comandante generale ha dato l'ok per questo trasferimento intermunicipale, ma purtroppo dopo che abbiamo chiesto un incontro col sindaco Alemanno ci ha sempre posto un rigoroso silenzio dopo aver demandato il tutto a Enrico Cavallari, che è l'assessore al personale del Comune di Roma. Dopo l'incontro con il capo sereteria Marcello Marrocco, la nostra proposta si è arenata presso l'assessorato al personale, che si trova proprio qui dietro, qui dietro incontrammo circa un anno fa il capo sereteria Marrocco. Abbiamo pensato di portare, di riprendere la nostra protesta, protesta perché non si può prescindere da questo problema, da questo problema che affligge la nostra comunità capitolina, il nostro comune, perché i vigili urbani e i dipendenti degli uffici tecnici devono essere trasferiti ogni tre anni per garantire la non collusione col territorio. Perciò mai più vigili urbani a pranzo, a cena, gratis nei ristoranti, mai più vigili urbani, come per esempio i dipendenti degli uffici tecnici, come è successo in alcuni casi a Ostia, possiamo documentarlo, possiamo documentarlo, mi sono sempre offerto per parlare come persone informate dai fatti con i magistrati, possiamo documentarlo dove ci sono state omissioni e leciti molto, molto, molto gravi, coperti proprio da interventi o non interventi da parte dei vigili urbani, nonostante le numerose denunce. Questo ci ha portato poi a fare, a mesionare queste proteste purtroppo agrotanti che andranno avanti in vari posti della capitale, in vari luoghi, proprio per far sì che la nostra risposta, nonostante la nostra risposta al silenzio assordante della giunta comunale, risultato dal sindaco Alemanno, che riteniamo da oggi responsabile assolutamente di qualsiasi atto illecito che verrà perpetrato da vigili urbani e dipendenti degli uffici tecnici, responsabile politicamente, sicuramente perché ci sta negando questo di affrontare, di aprire un tavolo di concertazione per affrontare questo problema che secondo noi è molto impellente, molto importante e da cui non si può prescindere per tutelare la legalità nel comune di Roma.